Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi volevo fare un video su le tendenze di questa primavera estate, cioè tutto ciò che andrà questa primavera estate. Per farlo volevo usufruire di due report, uno di Vogue e uno di GQ Italia, che andremo a leggere e analizzare insieme, e che, ragazzi, come sapete, riguardo anche a un mio video precedente che avevo creato, cioè quanto impiega un brand a creare una propria collezione, questi report quindi non sono stati fatti ieri, ma risalgono circa un anno fa, date appunto le tempistiche della moda. Chi ha visto quel video quindi saprà che ciò che viene venduto ora in negozio a gennaio-febbraio risale, la sua idealizzazione di questa collezione risale circa a un anno precedente. Gli articoli che oggi perciò analizziamo insieme sono stati fatti circa la scorsa estate, verso giugno-luglio. Volevo anche dirvi, ragazzi, che in questi giorni a Firenze si svolgerà il PT Uomo, PT Immagine 93, edizione 93, per quella che è la stagione autunno-inverno. Cos'è PT Uomo per chi non lo sapesse in breve? PT Uomo è una fiera che viene fatta sia a gennaio sia a giugno e praticamente al suo interno vengono coinvolti vari brand, specialmente tanti sono di piccole dimensioni che magari si vogliano fare pubblicità o sono emergenti e appunto gli serve vendere ma ancora non hanno una propria clientela fissa. Perciò prendono un proprio stand all'interno della fiera e per esempio per quello che è ora a gennaio vendano la collezione autunno-inverno 2018-2019. Cioè ciò che poi vedremo nell'autunno-inverno della prossima stagione nei negozi. A chi vendano i propri prodotti ovviamente agli acquirenti che poi vorranno metterli nei propri negozi. Ci sono poi anche dei brand molto importanti all'interno di questa fiera che praticamente stanno lì ma giusto per visibilità e perché ormai è una vita che ci sono. Non hanno bisogno di vendere perché magari hanno già il loro giro di clientela e il loro fatturato. È bella poi la fiera in sé per sé perché ci sono tante persone all'interno e c'è un'atmosfera più che piacevole. Inoltre poi ogni anno vengano anche senza invito o comunque per conto proprio stilisti quindi c'è l'opportunità magari di trovarci quello che ti piace, che idoli e quindi ci fai una foto insieme, due parole nel caso e è figo dai. Tutto ciò quindi per dirvi che spero di farci vivamente un salto e registrare due immagini e poi farvi tipo un sunto in un video e caricarvelo sul canale. Iniziamo quindi ora insieme con la lettura di questi brevi articoli che vi ho citato all'inizio. Partiamo dall'articolo di Vogue Italia e leggiamo Moda Uomo 10 trend per la primavera estate 2018. Scorriamo in basso e vediamo insieme che l'articolo infatti è stato scritto il 10 luglio del 2017. La moda europea è sfilata a giugno con le sue collezioni Uomo primavera estate 2018 cioè praticamente quasi un anno fa. Dalle passerelle di Londra, Firenze, Milano e Parigi noi abbiamo scovato 10 trend per la prossima stagione estiva, scopriteli qui. Il primo trend loro lo denominano Festival Vibes ovvero colori brillanti, materiali leggeri, stampe e molti crop top. Ci sono poi frange, patchwork, texture, inoltre focus particolare sugli accessori come visiere e flip. Il secondo Business Corporate ovvero l'abbigliamento da ufficio non è mai stato così interessante. Nuove silhouette, non solo box, dettagli colorati, atmosfere retro e vanno a illuminare i nuovi completi di una nuova area meno convenzionale che salva la cravatta ma opta ogni tanto per la gonna. Cioè no, non si può proporre sta cosa ragazzi, non ci siamo su questa tendenza. La terza viene denominata Wearable Art. Quindi ci saranno quadri e sculture per ricoprire quindi il corpo. L'ultimo che Vogue ci propone è di mercoledì noi ci vestiamo pink. Il rosa ha un ruolo da protagonista, specie un total look della sua nuance pastello. Su completi pantaloni e t-shirt ma anche su denim e capi spalla le possibilità e gli stili vi lasciano moltissime opportunità per sperimentare. Quindi sembrerebbe andare molto questo rosa pastello su vari prodotti appunto per poter sperimentare un outfit a proprio piacimento. Il secondo articolo che vi dicevo prima appunto è stato fatto da GQ Italia e anche questo è stato fatto il 28 giugno del 2017. Il titolo La moda uomo della primavera estate 2018 in set and dance. Loro l'hanno racchiusa quindi in set and dance. Le tendenze che leggiamo qua sono praticamente diverse da quelle che vi ho letto prima. Per quale motivo? Perché magari dalle sfilate possano nascere sentimenti diversi o qualcuno nota qualche particolare rispetto a un altro. Ecco quindi il sentimento, ciò che comunque traspare dalla visione delle sfilate è un po' personale. Uno lo riporta in maniera personale. È vero anche che ci sono quei dati oggettivi che appunto dici che ne so il rosa è comparso in tutti i brand. Benissimo quindi il rosa andrà questa primavera estate. Questo è un dato oggettivo. Però se magari si tratta di due o tre dettagli che qualche brand propone e tutti gli altri no. Ecco uno può farci cadere un focus mentre magari un'altra pagina non se ne interessa nemmeno. GQ ci dice che torneranno gli anni 80. In che senso? Viva le spalle imbottite delle giacche e la musica pop. È giunto il momento di celebrarle nuovamente. La prossima estate, questo decennio, diventerà nuovamente realtà. Diverrà nuovamente realtà. Almeno per sei mesi. Torneranno di moda quindi blazer dalla forma V, mono o doppio petto. E cravate dal nodo grosso. Il secondo trend che ci viene proposto sono i rainy jacket. Ovvero speriamo che la pioggia ci sia solo in primavera e non in estate. Ma gli stilisti sono previdenti e hanno proposto giacche antipioggia per la prossima primavera estate 2018. Dalla luretec e moderna a tratti futuristica. Come le giacche di MSGM, Julian David e Aaron Preston. Sembrerebbe poi essere secondo GQ di moda il colore rosso per questa primavera estate. In quanto Alexander McQueen di Orom e Yoshi Yamamoto hanno declinato alcuni capi della loro collezione nel colore rosso. Che regala all'atmosfera della moda speranza e passione da indossare con pantaloni scuri e camicia bianca. Altro trend che vediamo ovvero lo stile hawaiano. Grazie a questa tendenza si respira il profumo di oceano e di vacanze. Soprattutto in città dove l'estate è torida. Lo stile tropicale fa capolino su t-shirt e camicie a maniche corte. Come quelle proposte da Balenciaga e Dolce e Gabbana. Verranno fuori le strisce come non ci fosse un domani. Sottili e più spese su giacche e pantaloni, t-shirt e spolverini. Ma attenzione alla direzione delle linee. Se verticali allungano la silhouette. Se orizzontali invece la allargano. Ultimo trend che loro hanno individuato sarà il total white. Cioè look completamente in bianco. Quello che viene spesso denominato da gelataio. Delicatezza a 360 gradi. Senza pelli, solo forme allungate. Il total look colore bianco è la tendenza più raffinata della prossima estate. Ma non a tutti sta bene. Ecco questa è una cosa importante da sottolineare. Ricordatevi dunque del colore della vostra pelle. Se è troppo chiara il look potrebbe non regalarvi l'effetto che vorreste. Cioè praticamente stanno dicendo Alessio Sicurani. Te scordati di comprarti un look tutto bianco. Va benissimo così. Abbiamo dunque analizzato insieme ciò che i brand ci proporranno per questa primavera estate. E ciò quindi che andrà anche per la strada. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste tendenze. E se secondo voi ce ne potrebbero essere altre oltre a queste qua. Io raga vi invito come sempre a lasciare un bel like al video. Iscrivervi al canale e iscrivervi al gruppo Facebook. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ripeto spero di andare ora a Pitti e registrarvi questo contenuto. Per ora però è tutto. Ringrazio tutti per la visione. Bella.